300 giovani lecchesi hanno partecipato a Tech for Students, un progetto di orientamento sulla formazione tecnica e tecnologica organizzato dalle aziende Omet e Cama in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio. Io penso che siano queste iniziative di apertura delle aziende ai ragazzi e ragazze delle scuole siano importantissime perché a volte non c'è conoscenza, non c'è la possibilità di rendersi conto di quali e quante siano le eccellenze manifatturiere del nostro territorio. La nostra provincia è una provincia di eccellenza, di eccellenza della manifattura in tanti ambiti diversi e oggi la manifattura italiana è essenzialmente una manifattura di alta tecnologia. Questi concetti per chi non ha la possibilità di entrare nelle aziende e rendersi conto fa un po' fatica a capirli, a comprenderli e a capire la portata per quello che riguarda la futura. Crescita professionale di ogni ragazza o ragazza che escono dalle scuole. Quindi laddove c'è l'opportunità di entrare all'interno delle fabbriche la consapevolezza o la capacità di capire caratteristiche e opportunità è incredibilmente più elevata. Oggi abbiamo organizzato un'iniziativa in collaborazione con OMET per invitare e aprire le nostre porte ai ragazzi delle scuole tecniche, a partire addirittura dalle medie, alle scuole tecniche e all'ITS. Questo per dargli consapevolezza di quelle che possono essere le opportunità all'interno di aziende innovative come le nostre, quindi capacità di poi arrivare a comprendere meglio quale strada percorrere dopo aver finito le loro scuole. Questo credo che sia l'aprire una piccola porta e aiutarli a scegliere la strada giusta a livello professionale.